Condanna esemplare per un 44enne che ha picchiato selvaggiamente e abusato della compagna. L'uomo aveva persino minacciato di morte la figlia della donna. Cattolica, i candidati a confronto a tempo reale. Questa mattina è stato il turno del sindaco uscente Gennari e della candidata sindaco Foronchi della coalizione di centrosinistra. La scuola riminese del 300 e la croce di Mercatello, protagonista della mostra Palazzo Buonadrata che verrà inaugurata sabato. Basket, RBR sconfitta al Flaminio da Senigallia nella semifinale di Supercoppa. Sul risultato hanno inciso l'assente in Casa Biancorossa. Buonasera e bentrovati all'edizione serale di Carotigia. Capriamo con la cronaca appena esemplare per un 44enne di origine siciliana residente in provincia di Rimini che per mesi ha sottoposto alla compagna inaudite violenze fisiche e psicologiche arrivando persino a minacciare di morte la figlia della donna, il servizio. 11 anni di reclusione e questa la sentenza di condanna emessa dal Tribunale collegiale di Rimini nei confronti di un 44enne siciliano accusato di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e distorsione nei confronti della compagna, una donna che vive nel riminese, entrata in una spirale di violenza dalla quale le era impossibile uscire. Ogni volta che cercava di ribellarsi, di contraddire il suo aguzzino, erano botte, umiliazioni, minacce di morte, abusi sessuali. Come quando nel febbraio del 2020, all'interno dell'abitazione di lei, il 44enne la colpì con un calcio in pieno volto seguito da un forte schiaffo che le procurò la rottura di due incisivi. In un'altra occasione l'uomo le strinse la mascella in maniera così energica da farle saltare un dente dell'arcata inferiore. La brutalità dell'ex compagno, come ricostruito dall'accusa, è emersa anche nell'episodio di violenza sessuale denunciato, con la donna trattata come una bambola di pezza e costretta a soddisfare le voglie del suo aguzzino mentre veniva ricoperta di insulti. La vittima non temeva solo per la sua incolumità, ma anche per quella della figlia, oggetto di offese e persino di ripetute minacce di morte da parte dell'uomo. Tra i capi di imputazione contestati al 44enne siciliano anche l'estorsione di 8.000 euro. I giudici hanno accolto quasi integralmente l'impianto accusatorio del PM Davide Ercolani e questa mattina hanno inflitto all'imputato una condanna severa. Giovanni Laguardia sarà processato davanti alla Corte d'Assise di Rimini a partire dal 15 novembre prossimo. Il settantenne idraulico in pensione che si trova in carcere dall'ottobre 2020 per aver ucciso la moglie Vera Mudra, 61enne ucraina, martellate, deve rispondere di omicidio premeditato aggravato dalla convivenza e dalla minorata difesa e dal fatto di aver agito di notte nella loro abitazione di Via Pola a Rimini mentre la vittima dormiva. Il GUP del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha disposto il rinviaggiudizio così come richiesto dal pubblico ministero Luigi Sgambati. L'imputato difeso dall'avvocato Andrea Mandolesi rischia ora l'ergastolo. A spingerlo ad uccidere la moglie non sarebbero state le presunte pretese economiche di lei al culmine di una lite come raccontò la guardia agli agenti subito dopo il delitto. Il settantasettenne l'aveva tradita. Vera lo aveva scoperto e aveva deciso di andarsene di casa. Sarebbe questo il vero movente per cui la guardia l'ha assassinata nel sonno. Voltiamo pagina e parliamo di politica. È iniziato questa mattina alle 10 in diretta su Radio Icaro e Icaro TV l'appuntamento con Tempo Reale Speciale Elezioni obiettivo puntato sul comune di Cattolica. Ospite della prima parte di trasmissione Mariano Gennari candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Noi siamo cattolica e progetto cattolica mentre nella seconda è stata la volta di Franca Foronchi candidata sindaca di Cattolica Coraggiosa Cattolica Futura Azione, Idee in Comune, PD ed Europa Verde. Sentiamo entrambi su uno dei temi più dibattuti in città, lo spostamento della scuola repubblica. Io mi emoziono più di tanti altri che parlano perché lì nel 1968 io ho fatto la prima elementare e quegli alberi li ho piattati anch'io. Demolirla per ricostruirla non va incontro alla norma del DM del 75 che prevede che la scuola sorga su un fondo almeno triplo della superficie coperta della scuola. Allora, non è che sono andato lontano e ho dovuto pensare ho guardato il piano regolatore quindi l'unico spazio che secondo me resta idoneo per la scuola è il terreno davanti al VGS. Allora, sarebbe vicino a tutte le altre scuole quindi Giova al trasporto scolastico sarebbe vicino a tutte le strutture sportive quindi Giova alle uscite all'aria aperta che specialmente i bambini degli elementari fanno Giova al fatto di avere un parco davanti quindi recupero delle acque, orti didattici aule all'aperto recintate da siepi quindi dove i bambini possono fare veramente una didattica diversa una palestra regolamentare e soprattutto la mensa interna io sono stato per 4 anni prima di diventare sindaco vicepresidente del consiglio di istituto come genitore mia figlia andava a scuola nella Repubblica nella zona che è stata liberata adesso quindi insomma quando mi vengono con gli occhi lucidi la nostalgia io preferisco dare ai miei ragazzi una struttura sicura e di qualità è una scuola che deve essere ricostruita benissimo su questo non abbiamo ombra di dubbio proprio per l'idea che abbiamo della sostenibilità e del costruire sul costruito perché non è che possiamo dire siamo ambientalisti e poi quando ci tocca facciamo quel che ci pare perché se no ecco del costruire sul costruito noi crediamo che lì si possa ricostruire la nuova scuola della Repubblica lo si possa fare anche interessando delle aree contigue che ci sono che sono poco utilizzate vicino alla piazza della Repubblica uno è per evitare il consumo di territorio andare a occupare un altro spazio verde che abbiamo nella zona Macanno vicino a un supermercato e vicino a una rotatoria sotto di un fungo credo che insomma si possa anche tenere lì che è vicino al teatro vicino alla piazza della Regila vicino al centro culturale polivalente quindi capite che è già un'altra storia e poi si trova all'interno di un quartiere cioè è un quartiere del centro il quartiere Violina, Casette e Porto e la scuola non è solo un edificio la scuola è vitalità e creatività e cultura la scuola è persone insegnanti parliamo dai ragazzi, bambini in questo caso bambini, ragazzini insegnanti, personale scolastico genitori, nonni è una scuola che si può raggiungere a piedi perché è vicinissima a tutte le parti della città e allora facciamo un ragionamento di questo genere si può fare perché ripeto togliere una scuola da un quartiere significa anche togliere un presidio vi ricordo che le interviste integrali saranno riproposte questa sera alle 22.15 domani invece ospiti di Tempo Reale saranno il candidato sindaco della lista rossa Francesco Vittori e quello di Alleanza Civica Lega e Fratelli d'Italia Massimiliano Gessaroli ora il consueto aggiornamento sul coronavirus sono in lieve aumenti i contagi in provincia di Rimini e in Emilia Romagna ma in una situazione ancora lontana dai livelli di allarme dopo diversi giorni sono invece in calo i ricoveri nei reparti Covid il servizio sono 54 di cui 40 sintomatici i nuovi casi di coronavirus in provincia di Rimini ieri 36 in Emilia Romagna i nuovi contagi sono 364 40 in più di ieri su un totale di 28.500 tamponi la percentuale dei nuovi positivi sul totale dei test è dell'1,3% ieri l'1,1 in calo l'età media dei nuovi positivi oggi 38,3 anni davanti a Rimini c'è solo Modena con 85 casi ci sono purtroppo 6 decessi oggi in Emilia Romagna nessuno nel riminese le eta vanno dai 73 ai 95 anni le guarigioni sono 771 il doppio dei nuovi contagi i casi attivi scendono a 13.362 rispetto a ieri 413 in meno la percentuale di quelli in isolamento domiciliare è del 96,5% in lieve aumento per quanto riguarda gli ospedali i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 44 numero invariato rispetto a ieri mentre Rimini scende da 8 a 7 427 quelli negli altri reparti covid 23 in meno dopo diversi giorni di aumento intanto secondo la rilevazione della fondazione Gimbe a livello nazionale nella settimana 8-14 settembre sono calati tutti gli indicatori i nuovi contagi i decessi i ricoveri con sintomi e le terapie intensive confermando che oggi i ricoveri riguardano quasi esclusivamente persone non vaccinate è stato aperto oggi alla stampa l'allestimento della mostra all'oro di Giovanni il restauro della croce di Mercatello il 300 riminese promossa dalla fondazione Cassa di risparmio di Rimini e Soroptimist Rimini e organizzata dall'Istituto Superiore di Scienze Realizzose Marvelli la mostra a ingresso libero con Green Pass sarà inaugurata sabato alle 11 a Palazzo Buonadrata in corso d'augusto e sarà visitabile fino al 7 novembre vediamo è la croce di Mercatello dipinta da Giovanni da Rimini nel 1309 unica opera datata e firmata dal maestro protagonista della scuola riminese del 300 l'opera principale della mostra l'oro di Giovanni la croce appena restaurata torna di nuovo a Rimini dopo oltre 85 anni il grande crocefisso di Mercatello è stato completamente restaurato brilla in maniera tale da evocare l'antico splendore all'antico splendore non si potrà mai tornare ma suggerisce nella sua struttura ricomposta nella sua tessitura riallacciata e riannodata un'arte squisita un'arte raffinata un'arte commovente che tiene dentro l'umanità il pianto di Giotto la sua narrazione le grandi porte dorate delle cattedrali bizantine e il mondo adriatico complesso tra l'espressionismo balcanico l'aristocrazia appunto bizantina e la nuova pittura che Giotto ha portato a Rimini di cui Giovanni è uno degli interpreti più freschi migliori anche tra i primi vorrei dire a completare la mostra la croce dipinta della chiesa di San Lorenzo a Talamello il più piccolo crocifisso di Otallevi la croce sagomata dell'antiquario Moretti di Firenze il croce fisso spina del maestro di Montefiore e la testa di Giuliano da Rimini un impegno per valorizzare il 300 riminese che continua come sollecitato dal riminese Antonio Paolucci ex ministro ed ex direttore dei musei vaticani Paolucci anche in questo caso è il presidente del nostro comitato scientifico per noi la figura ispiratrice e ha dato un nuovo impulso alla scoperta di quest'arte che dovrebbe essere la principale identità della città di Rimini l'identità culturale di Rimini anche moderna perché l'Europa lo fa valorizza soprattutto questi pittori quelli che noi chiamiamo i primitivi e che in realtà sono primordiali geniali sono l'origine e la radice della nostra grande pittura in chiusura lo sport basket RBR penalizzato dalle assenze è stata sconfitta nettamente dalla Golden a Senigallia nella semifinale di Supercoppa nonostante le fiammate in apertura dell'ultimo quarto al Flamino finisce 70 a 58 per gli ospiti ascoltiamo il dopogara di Coach Ferrari le assenze hanno un peso la stanchezza viene perché giochi male e automaticamente tutto diventa più difficile gli avversari bravissimi a metterci in grandi difficoltà con tutta questa serie di cambi questa difesa molto attenta molto preparata dentro l'area molto pronta dentro l'area per cui è una somma di piccole cose sapevamo che oggi sarebbe stato difficile difficile perché Senigallia è comunque una squadra che ha delle caratteristiche con le quali noi anche al completo probabilmente ci accoppiamo male ma le assenze sicuramente non peso soprattutto con tante assenze nello stesso ruolo assolutamente e tanti giocatori importanti noi abbiamo 7 senior ne mancano 3 obiettivamente è tanto e poi abbiamo giocato una partita da subito si è visto con poca energia poca attenzione e giustamente abbiamo perso andremo avanti a allenarci faremo delle amichevoli ci prepareremo sperando di recuperare i giocatori però alleneremo chi c'è in campo nel migliore dei modi cercheremo di recuperare chi fuori dal campo nei migliori dei modi e piano piano di allenarci sempre con più persone questo deve essere il punto Rimini Calcio e Icaro TV torna un binomio che ha caratterizzato la storia della città di Rimini la nostra emittente torna ad essere la TV di riferimento della società Biancorossa la collaborazione partirà già sabato con la diretta alle 12 sulle pagine Facebook di Icaro Sport e Rimini Football Club del prepartita di Mr. Gaburro tutte le conferenze stampa della Rimini Calcio saranno trasmesse in diretta sulle due pagine Facebook e in differita su Icaro TV canale 91 e saranno visibili on demand su IcaroPlay.it Inoltre Rimini Football Club e Icaro TV stanno valutando altre possibili forme di collaborazione E' tutto e vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it e la nostra piattaforma IcaroPlay.it dove potrete rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro compreso il TG Grazie per essere stati con noi e a tutti voi l'augurio di una buona serata a seguire una comunicazione elettorale Iniziative Editoriali SRL titolare dell'impresa di radiodiffusione sonora televisiva in ambito locale denominata Icaro TV informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Rimini Cattolica Montescudo Montecolombo Nova Feltria Pennabilli e Sasso Feltrio indetta per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 e per l'eventuale turno di ballottaggio previsto per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 A tal fine informa altresì che presso la propria sede ubicata in Rimini in via Cairoli 69 telefono 0541 785 785 fax 0541 90 20 64 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati le modalità di prenotazione dei suddetti spazi le tariffe l'accesso ai suddetti spazi quali autonomamente determinate da iniziative editoriali srl ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi di suddetti spazi feri che l'anno per la fruizione che usano anche per la fruione che usano come per la fruizione cantare PI ora